Ilari Blasi ha pubblicato un annuncio disperato su Instagram, la showgirl vuole essere aiutata, ma cosa è successo? Non c'è pace per Ilari Blasi, dopo aver passato un'estate turbolenta a causa della sua separazione con Francesco Totti, la conduttrice romana sta vivendo momenti di grande crisi a causa di una sparizione improvvisa La madrina dell'Isola dei Famosi, infatti, ha condiviso su Instagram un disperato grido d'aiuto, il suo gatto Alfio è sparito Ma cosa è successo? Leggi anche, Totti, Ilari Blasi, la scelta di lei non promette bene i dettagli sul divorzio Ilari Blasi ha perso il suo gatto Ilari Blasi in questo momento si trova in Croazia e ha appreso la notizia dello smarrimento del suo gatto Alfio Probabilmente l'annuncio è arrivato dal suo ex marito, Francesco Totti, che oggi si trova a soggiornare nella villa di Sabaudia dove il felino è scomparso La conduttrice romana, disperata, ha lanciato un appello su Instagram, correlato a queste parole, poi, nell'annuncio spunta anche un numero di telefono con prefisso milanese, si tratta di quello dell'agenzia Notoria, che da qualche tempo cura la sua immagine L'appello di Ilari Blasi l'annuncio Alfio è un gatto di razza Sphinx ed è il secondo della conduttrice Ilari Blasi, infatti, prima di lui ha adottato una femmina della stessa razza, donna Paola Cosa c'entra Totti? Totti al momento si trova a trascorrere i suoi ultimi giorni di ferie nella villa di Sabaudia, la stessa in cui per anni ha soggiornato insieme a Ilari Blasi e alla loro famiglia Oggi il pupone è solo nella grande casa vista mare e, sembra, solo pochi giorni fa avrebbe avuto un duro scontro con la sua ex moglie Pare che Ilari e Francesco abbiano litigato per la sempre più assidua vicinanza di lui alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi A prescindere dalla delicatissima situazione fra loro, comunque, possiamo dedurre che i gatti della conduttrice romana fossero affidati proprio all'ex calciatore della Roma, che si sarebbe offerto di prendersene cura mentre la Blasi finisce le sue vacanze Fino a pochi giorni fa, infatti, Ilari si trovava nel comune di Latina, ma è ripartita insieme a sua figlia Isabel per raggiungere sua sorella a Mellori in Croazia Oggi però il cuore della showgirl è in pezzi Dopo il divorzio da Totti deve fare anche i conti con lo smarrimento del suo gatto Anche noi di incrociamo le dita perché possa tornare presto a casa Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao